buongiorno questa è un'altra nostra varietà arampicante si chiama malabarista penso che in spagnolo si pronunci in un'altra maniera significa giocoliere di strada perché i fiori sembrano colorati in maniera divertente con questi spruzzi di lampone da un pittore che si divertiva a lanciare il colore addosso dei fiori quando l'ho vista fiorita la prima volta nei campi dopo alcuni anni di osservazione sembrava appunto che qualcuno ci avesse si fosse divertito a lanciargli addosso del colore fa una parete piace anche al gallo avete sentito fa una parete di circa due metri due metri e mezzo si riempie di questi fiori durante tutta la stagione sono profumati ricordano un po l'albicocca i frutti frutti maturi e per l'inverno regala anche delle bellissime bacche decorative ha pochissime spine e sono sicuro che è molto versatile perché potete usarla sia nei giardini a terra che nei grandi vasi perché vi regala delle bellissime fioriture ahhh 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 Grazie a tutti.